Il mare Il mare è un posto speciale, che sembra infinito. È un mondo speciale, che racchiude tante bellezze e ricordi. Qui ho incontrato chi mi sta accompagnando nella vita. Ho imparato a parlare con me stesso. Ho inseguito i miei sogni. Ho imparato il rispetto. È come quando i nostri sensi si accorgono dell'ambiente che ci circonda attraverso il suono, il sapore, il profumo, ciò che vediamo e tocchiamo. Ecco cos'è il mare. Il luogo dove si incontrano le sensazioni. Le emozioni si trasformano nel tempo. Spesso maturano. Sta per sorgere un nuovo posto dove gioire di questo spettacolo della natura. Dove trascorrere degli attimi indimenticabili. Un nuovo luogo da vivere. In cui nasceranno nuove storie. La nostra città cresce. Guarda al futuro. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Waterfront, il nuovo volto del lungomare di Fano. Siete davvero numerosi questa sera. Ci apprestiamo a... Abbiamo vissuto già con queste immagini spettacolari e suggestive quello che potrebbe essere la nuova sistemazione dei lungomari di Sassonia e Fano Sud. Le immagini che avete visto sono frutto dello studio di Zari Comunicazione con dei frammenti storici messi a disposizione dallo studio del bianco di Fano. Era il 28 dicembre 2020, quindi appena un anno fa, un periodo molto difficile, ma l'amministrazione ebbe il coraggio di lanciare un concorso, un bando, un concorso di idee, un concorso internazionale per creare appunto una nuova immagine del lungomare di Fano e creare un nuovo dialogo tra il mare e le zone urbane di Fano e appunto di Ponte Sasso. Negli anni scorsi, lo ricorderete, il Lido in particolare è stato oggetto di un importante intervento, tra l'altro avremo qui l'architetto Elena De Vita che ci racconterà un po' l'iter che c'è stato in quegli anni e adesso dovrebbe toccare appunto ad altre zone molto importanti di Fano. Oggi ci troviamo qui a dare i risultati del concorso di idee dedicato a queste due aree strategiche in modo da renderle sempre più accoglienti, sostenibili, adatte a un turismo lento e in piena sinergia con le attività economiche e turistiche di Fano. Ovviamente la sfida è quella di ripensare una città in costante connessione, come dicevo, con le ricchezze ambientali, storiche, paesaggistiche e culturali. E lo scopo è rendere il waterfront uno spazio pubblico flessibile e connesso dove è possibile oltrepassare le barriere create dalla ferrovia e dalle strade. Oggi, con qualche suggestione ovviamente, ci avviciniamo a quell'idea di futuro che è stata così pensata dagli amministratori di Fano, a cui do subito la parola, anzi li chiamo qui sul palco, chiamo il sindaco di Fano, Massimo Seri, e l'assessore, nonché vice sindaco, Cristian Fanesi. Vi accoglierei anche con un applauso. Sindaco, lei ha dato grande impulso a questa idea, sostenuta questa sfida di rinnovamento, la ringrazio ovviamente per la presenza. Cosa possiamo dire su questo progetto che presentiamo oggi? Mi fa piacere che c'è una presenza così numerosa a testimonianza dell'importanza che assume questo percorso e soprattutto la visione che noi vogliamo dare a questa città. È una città che io dico spesso da amministratore che ho avuto una grande fortuna, abbiamo avuto una grande fortuna di avere una eredità importante, una bella città storica con un centro storico fortemente legata con il mare dove il porto nasce all'interno del centro, se pensiamo alla Darsena Borghese, se pensiamo ad una costa molto lunga che parte da Fosso Signore e finisce a Ponte Sasso con una forte vocazione turistica e sappiamo che se vogliamo vincere delle sfide dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo pensare in grande e pensare al bello, perché col bello si vince. Lo abbiamo dimostrato con alcune riqualificazioni del centro storico che sono state fortemente apprezzate, dal mio punto di vista hanno portato anche benefici da subito dopo e lo abbiamo visto anche con dei dati oggettivi, ma al di là di questo elemento volevo dire che non era uno scherzo, quando si fanno degli annunci alcune volte si può pensare che sono le solite cose, no, abbiamo già dei precedenti, abbiamo detto che volevamo trasformare questa città negli anni, poi anche chi seguirà proseguirà, renderla, io dico, adesso faccio il voulon, siamo a Fano, c'è la maschera di carnevale, però la città più bella delle Marche, adesso non so se sarà la più bella ma sicuramente sarà tra le più interessanti nel suo insieme. Per arrivare a questo risultato dobbiamo fare tanti progetti, tanti sono in cantiere e abbiamo deciso per questo, con l'ambizione collettiva di fare le cose in grande, di pensare a un progetto veramente innovativo e forte, che possa essere attraente, che possa essere anche un servizio per l'offerta che la città nel suo insieme offre. Questo concorso di idee, ma sono quei concorsi idee veri, come l'abbiamo fatto per il parco in precedenza, dove andiamo ad attribuire dei vincitori e a questi attribuiamo la progettazione. e abbiamo già accompagnato con le risorse già destinate, che aspettiamo di poter anche integrare con ulteriori risorse, stiamo aspettando anche alcune risposte su alcuni bandi a cui abbiamo partecipato e abbiamo inserito anche il waterfront, quindi con l'obiettivo veramente di partire da oggi concretamente. Quindi questo è un primo passaggio, ovviamente non vedete, non c'è l'esposizione di un progetto, ci sono delle indicazioni, ci sono delle visioni, delle concretezze, però tengo a sottolineare che da qui parte un nuovo percorso di riqualificazione in modo partecipato, come abbiamo fatto su altri percorsi, mi viene in mente la fabbrica del Carnevale, che ha visto una grande partecipazione e oggi la realizzazione, perché nelle prossime ore saprete anche la ditta che ha vinto che realizzerà, perché anche qui il percorso si è concluso. Lo dicevo, lo faremo in modo partecipato con il coinvolgimento degli stakeholder, degli interessati, sono due i progetti perché vogliamo parallelamente intervenire sia a nord che a sud del Metauro in una visione globale e non pensando soltanto ad un progetto specifico di una piccola parte, ma a un progetto globale, ovviamente intervenendo per stralci, pronti per partire col primo stralcio con l'obiettivo di arrivare anche all'ultimazione entro fine mandato. Quindi come vedete ci diamo delle scadenze ben precise. Fra l'altro i vincitori poi si presenteranno, sono di altissimo livello, perché è giusto che sia così per progetti importanti come questi. Sindaco, lo ricordavo prima, mi ha colpito il fatto che il bando sia del dicembre 2020, quindi vuol dire avere coraggio ma anche una prospettiva lunga. Era un periodo difficile. Era un periodo difficile, lo sappiamo, lo viviamo tutti quanti, quindi purtroppo ci ha ritardato anche un po' il bando, potevamo, se non ci fosse stata la pandemia, oggi saremmo stati qua magari a ragionare sugli esecutivi e per far uscire il bando per realizzarlo. Però d'altronde certi fenomeni non dipendono dalle nostre volontà. Vorrei aggiungere un altro elemento, poi in questi giorni mi tocca da vicino perché sono stato anche in turnese, così si può dire, però, lo dico con ironia, ma con importanza perché quando altre città anche dall'Europa guardano l'attenzione a Fano, questo ci rende orgogliosi, significa che siamo un elemento attraente. E quest'anno ricorre anche il trentennale della Fano, città delle bambine e dei bambini, quindi voglio dire anche che ci sarà un coinvolgimento, anche un riconoscimento di quel metodo di lavoro. Abbiamo investito molto anche sulla promozione turistica e stiamo facendo un percorso in tal senso sulla famiglia e quindi ci sarà un'attenzione anche in questi termini, anche con i suggerimenti e le suggestioni che arrivano quindi da tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Perfetto, grazie Sindaco. Tra l'altro appunto nella roadmap c'è un appuntamento proprio col Consiglio dei Bambini. Abbiamo con noi anche il Vice Sindaco, Assessore alle Uri Pubblici e all'Urbanistica, Cristian Fanesi. Che sarà impegnato, in prima battuta, se tutto andrà come aspettiamo in questo percorso, insomma. Sì, sarà un percorso anche lungo, nel senso che ci impegnerà tanto, veloce nelle tempistiche. Vogliamo dare questa tempistica anche serrata, l'ha detto il Sindaco, nel dettaglio poi entreremo dopo. E lo faremo tutti insieme come Assessore, quindi ovviamente io, insieme alla Barbara Brunori, alla Fabiola Tonelli, che sono qui in prima fila, e insieme a tutti gli altri, in particolare anche all'Assessore Tien Lucarelli, che ovviamente è coinvolto in quanto Assessore al Turismo. Perché il Waterfront deve essere un'occasione per rilanciare la nostra città. Deve essere un'occasione per far partecipare, come ha detto il Sindaco, tutti gli operatori alla stesura di un progetto che veda concretizzazione a breve. Però sarà anche un momento in cui si confronterà, ci confronteremo con tutti quanti, con l'obiettivo. Primo, di stupire, perché abbiamo anche questa ambizione, stupire, fare un progetto bello che attiri i fanesi che siano appagati anche dal lavoro che faremo, ma anche i turisti. Perché l'obiettivo poi è anche quello di aumentare la possibilità di fare aumentare le presenze turistiche. Quindi è un piccolo contributo, contributo pubblico, per cui io credo e spero che da questo progetto nasca anche l'interesse degli operatori già presenti di investire ancora di più sul turismo e sulle loro strutture, ma che possa attrarre anche altri operatori, in maniera tale che possano aumentare le presenze e l'offerta turistica a Fano. Questo è il primo step. Il secondo step è ovviamente un lavoro che dovremmo fare per coinvolgere tutta la città, perché tutti siano protagonisti di questo bellissimo progetto e lo dovremmo fare insieme. Io credo che questa sia un'occasione, poi parleremo anche di altri progetti che nel passato non abbiamo fatto, come il progetto Gregotti. Gregotti è un architetto noto, morto qualche anno fa, dunque era un progetto anche importante e quella volta non l'abbiamo fatto. Allora io dico, cogliamo le occasioni, facciamo in modo di ricogliere questa occasione perché ci sono tutti i presupposti, ci sono i soldi, ha garantito il sindaco, ma lo sappiamo, è anche in giunta, c'è la volontà politica e ci sono dei tecnici bravi che abbiamo selezionato attraverso questo concorso di idee che possano mettere a disposizione la loro professionalità per preparare il progetto. Perché la sfida anche tra territori è quella di avere progetti validi, cantierabili, in maniera tale che si possano prendere i fondi dall'Europa, dal PNRR, eccetera. E quindi noi ci siamo, ovviamente parte un percorso, ma ci siamo e ci vogliamo essere perché nella sfida anche territoriale Fano deve essere, come ha detto il Sindaco, la più bella città delle Marche. Quindi se ho ben capito, vede una comunità matura per cogliere queste occasioni a livello economico, a livello... Sì, io la vedo, per raccogliere queste occasioni dobbiamo essere uniti, per questo il coinvolgimento ci vuole, dobbiamo essere uniti, coesi, guardare la nostra strada, percorrerla insieme e quindi è il momento di iniziare questo percorso anche su questo settore. Dopo la pandemia probabilmente tante cose stanno succedendo e succederanno ancora più in fretta perché l'economia cresce, ci sono possibilità di investimento, ci sono fondi pubblici, quindi dobbiamo essere anche veloci, oltre che decisi e coesi. Grazie mille, grazie al Sindaco. Telegrafico perché voglio riprendere il Vice Sindaco accolto nel segno. L'obiettivo è stupire e non perdere questa occasione. La nostra città in passato ha perso delle chiusure e il progetto Gregotti era veramente un'opportunità straordinaria per volare alto. Oggi dipende solo da noi, gli strumenti li abbiamo messi tutti a disposizione, significa che dobbiamo fare anche delle scelte insieme, perché fare le cose belle, rivoluzionarie, ambiziose, significa fare anche delle scelte che dialogano anche con il retro dei waterfront, per cui noi ci crediamo veramente e sono convinto che sia un'opportunità quando si riparte, si realizza qualcosa di nuovo, è anche l'occasione per risalire la classifica dell'offerta. E quindi veramente è una grande occasione, ripeto, dipende solo da noi, non soltanto l'amministrazione ma da tutti noi, da tutti gli operatori, da tutti coloro che saranno coinvolti in questo percorso. Grazie al Sindaco Massimo Seri, grazie al Vice Sindaco Cristian Fanesi, farei anche un applauso e li ringrazio ancora. Dunque, il percorso che ha portato all'individuazione dei progetti vincitori è stato curato da una giuria molto qualificata, professionisti nei settori dell'architettura, della progettazione e del turismo. In particolare, il presidente di giuria è stato l'architetto Adriano Giangolini del Comune di Fano, con il professor architetto Pippo Ciorra, l'architetto Federico Francolini, l'ingegner Renato Morsiani e il dottor Josep Jark, esperto di turismo che abbiamo avuto modo già di apprezzare in iniziative legate appunto a questo settore. L'esito del delicato lavoro ha portato a questi vincitori, che vi dico subito, Fano Sud, Torrette Ponte Sasso, primo premio a Pro App Italia per la valorizzazione della connessione tra il lungomare e il quartiere della comunità, con focus dedicati alla mobilità dolce e agli spazi aperti. Seconda posizione per Massimiliano Cicotti e terza per Michele D'Amico. Premio meritevole ad Andrea Govi. Un applauso. Per quanto riguarda Sassoni, invece, il premio del Waterfront Urbano è andato a Super Spazial di Andrea Govi, che dopo avremo modo di conoscere, Antonio Lamarca, di Milano. Secondo Francesco D'Ercoli, terza Elisa Cristina Cattaneo. Il premio meritevole va a un pool di studi di architettura capitanato da Pro App Italia. Anche qui un applauso. Avete già avuto modo di visionare il logo, che è stato curato dall'agenzia Zari Comunicazione. È un'immagine molto suggestiva, che appunto richiama questa conchiglia, che poi ha dentro di sé una miriade di significati. Il logo è stato appunto realizzato da Zari Comunicazione, in particolare dalla graphic designer Maria Chiara Lucarelli, che abbiamo qui. La salutiamo, le facciamo anche i nostri complimenti. E vi leggo cosa mi ha spiegato su questo simbolo. Da sempre simbolo legato al mare, la conchiglia evoca numerose sensazioni e ci riporta col pensiero al bagnasciuga. Passeggiando, una tra tante cattura la nostra attenzione, ci soffermiamo a studiarne la sua superficie, a volte liscia, a volte irregolare, a percepire quasi il profumo che emana, e accostandola all'orecchio, ci porta ad ascoltare il suono delle onde che riecheggiano al suo interno. Nell'arte, la conchiglia è soprattutto il simbolo della rinascita, una forma geometrica morbida e al contempo strutturata, suddivisa in più sezioni, che riacchiude in sé i concetti del concorso di idee del Waterfront. Alla base del logo, una piccola foglia verde a richiamare il rispetto per l'ambiente, foglia che è sinuosa, si fonde in un sodalizio tra natura e struttura portante. A seguire i tre spicchi beige, che rappresentano una passerella, una passeggiata che ci conduce direttamente alla parte finale del logo, una grande onda, dal colore blu intenso, nel vortice un foro, a rappresentare una pupilla, un occhio rivolto verso il mare, uno sguardo sul mare e verso il nuovo volto del lungomare. Complimenti ancora a Maria Chiara Lucarelli e a Zari Comunicazione. Bene, allora, prima di dar voce e volto ai vincitori del concorso, abbiamo quell'intervento che abbiamo annunciato prima, che è con l'architetto Elena De Vita, che invito qui con noi sul palco, che ci illustrerà appunto il progetto varato nel 91 per la riqualificazione del Lido. un progetto che poi ha preso corpo a stralci tra la fine degli anni 90 e poi gli inizi del 2000. Prego, architetto. Il 1984. Buonasera. Allora, iniziamo un breve discursus su quelli che sono stati, diciamo, i progetti e comunque gli strumenti urbanistici che hanno interessato il Lido. La prima volta che l'amministrazione comunale ha dedicato la sua attenzione alla spiaggia di Ponente è quando ha conferito all'architetto Vittorio Gregotti nel 1984 l'incarico per redigere il progetto di sistemazione della spiaggia di Ponente. Gregotti vede il quartiere del Lido come un quartiere che è separato dal porto canale dalla zona del porto Sassonia non ha legami con la parte diciamo dell'Arzilla è vicino alla città murata ma separata dalla città murata appunto dalla linea ferroviaria. Quindi ritiene di dover intervenire riqualificando la spiaggia tutto il fronte spiaggia creando un sistema di percorsi pedonali che quindi consentano di ricollegare di collegare il Lido e con la zona porto e con la zona del centro storico. L'intervento inizia qua a largo della lanterna dove una rampa ci conduce a un ponte che consente il passaggio delle barche tranne quelle con l'albero ovviamente scende e si inizia a percorrere tutta la passeggiata che arriva fino al molo dell'Arzilla dove c'è una rampa per la discesa alla sabbia e poi il molo dell'Arzilla si conclude con un elemento scultoreo di Arnaldo Pomodoro veramente molto suggestivo. La passeggiata è strutturata in questo modo questa è via Simonetti è prevista una passeggiata a un primo livello ombreggiata poi con un terrapieno che mi supera un dislivello di circa un metro e quaranta un'altra passeggiata tutta completamente soleggiata sotto questa passeggiata dalla quale si vede il mare abbiamo le cabine balneari con un sistema di tende ombreggianti e poi lo spazio sulla sabbia per gli ombrelloni in questo terrapieno inerbito ci sono poi contenute le scale per scendere alla spiaggia oppure per passare da un livello di passeggiata all'altro questa passeggiata quindi inizia dal porto canale finisce all'Arzilla al molo dell'Arzilla e lungo il suo percorso ci si attestano il club nautico la sede dell'azienda di soggiorno il ristorante in corrispondenza di Viale Cairoli abbiamo strutture ricettive e ristorante in corrispondenza di Viale Carducci abbiamo pista di patinaggio piscina con bar e strutture annesse quindi il primo ecco qua allora quindi abbiamo diciamo il progetto che riguarda la spiaggia di Ponente si esaurisce qui un altro elemento molto caratteristico che Gregotti propone per collegare il Lido al centro storico è una passerella che cammina esattamente sopra i binari parte da questa zona di Viale Cairoli con un elemento di salita e di discesa e arriva alla Rocca Malatestiana attestandosi esattamente nella zona del maschio con un altro elemento caratterizzante che è un obelisco altra opera dell'artista Arnaldo Pomodoro questo progetto fu presentato alla città nel novembre del 1994 con un convegno alla sala San Michele che personalmente ricordo e fin da subito ci fu un grande dibattito e devo dire la verità fu anche molto avversato leggendo la la rassegna stampa leggendo la stampa di quel periodo vediamo che il motivo diciamo principale di critica è legato appunto alla passeggiata perché da chi percorre via Simonetti non c'è proprio la possibilità di vedere il mare quindi questa barriera continua che appunto va dal porto canale all'Arzilla era un elemento molto forte che veniva contestato altra contestazione legata all'importo dell'opera 6 miliardi di lire che comunque non davano risposta alla riqualificazione della zona che invece veniva richiesta dagli operatori turistici dalle associazioni culturali eccetera poi sono iniziate le perplessità sulla passeggiata quella sopra la ferrovia perché comunque sia per quanto riguarda il rapporto amministrativo tecnico con le ferrovie dello Stato con le quali si sarebbe dovuto prendere tutta una serie di accordi perplessità sui costi anche di manutenzione le difficoltà di manutenzione di quel manufatto e in ultimo anche la sovraintendenza che circa appunto la passerella che si attestava alla rocca malatestiana aveva iniziato a nutrire molte perplessità quindi nel 1984 di fatto il progetto Gregotti non ha avuto nessun tipo di seguito arriviamo al 1991 quando l'amministrazione conferisce all'architetto di Erna che con l'architetto Strickner devono redigere il piano particolareggiato del quartiere Lido di Fano il progetto questo è il piano particolareggiato eccolo il piano particolareggiato che in pratica vuole riqualificare la zona del Lido in quanto la legge come cerniera tra la zona dell'Arzilla Gimarra la zona del Porto e il centro storico il piano particolareggiato di individua delle aree progetto che sono l'area dell'ex hotel Vittoria con destinazione alberghiero commerciale questa che è l'area B che comprende la vecchia sede dell'ex hotel Lido e i giardinetti dove qui sono previste strutture con carattere di architettura leggera e nei giardinetti è prevista un'area di verde pubblico con la cavea sia questo intervento che questo poi oggi li vediamo realizzati l'area C che comprende il plaza il condominio Lido e le casette nella quale è previsto l'ampliamento del plaza la demolizione delle casette con la costruzione di un edificio di testata e a piano terra tutto un sistema di strutture leggere porticate aperte chiudibili che caratterizzano dovevano caratterizzare il piano terra dando continuità e davano la possibilità ai vari bar e negozi e altre strutture ricettive di ampliarsi sul suolo pubblico poi abbiamo l'area della pista di patinaggio dove è prevista una pista polivalente con gradonata e spogliatoi sotto la gradonata infine l'area D che qui non è rappresentata e che è l'hotel Excelsior a ridosso del molo dell'Arzilla il progetto di Erna è stato adottato il piano particolareggiato di Erna è stato adottato nel marzo del 1990 e in tutta questa zona per tutta la lunghezza di via Simonetti aveva inserito l'intervento Gregotti poi le osservazioni al piano particolareggiato sono state recepite e si è deciso di stralciare l'intervento Gregotti quindi nel Dierna approvato approvato nel marzo del 1991 la via Simonetti è caratterizzata da questo rettino e quindi ha come destinazione spazi percorsi pedonali ciclabili e con caratteristica poi di accessibilità carrabile di emergenza e servizi quindi arriviamo al 1993 quando appunto l'amministrazione comunale decide di realizzare un progetto di riqualificazione del lungomare di via Simonetti e decide di conferire l'incarico a me e ai miei colleghi che siamo dipendenti del settore lavori pubblici quindi è stato per noi un motivo di orgoglio poterci dedicare alla progettazione di una zona così importante e abbiamo avuto anche non lo nego dei timori perché dopo Gregotti era dura avevamo di fronte una situazione che ecco vede oddio cosa ho fatto vado torno su scusate ma non ho molta dimestichezza con queste cose il lungomare era praticamente questo via Simonetti con tutte le cabine che si attestavano perpendicolarmente una strada larga 7 metri 9 metri ecco qui siamo praticamente alla pista davanti alla pista di patinaggio qui poco giù quindi avevamo questa situazione allora la via Simonetti era una strada come avete visto dalle immagini senza nessun tipo di caratteristica particolare molto degradata e sulla quale si affacciavano come si affacciano tuttora degli edifici senza alcun pregio particolare senza una identità formale alcuni dei quali se confrontati con le casette a un piano avevano hanno addirittura un aspetto sovradimensionato quindi appaiono come un fuori scala oltre al degrado dell'intero lungomare avevamo le cabine balneari obsolete perché risalivano agli anni 60 e l'azienda bagni poi divisa in tre bagnini avevano la necessità di realizzare le nuove cabine in questo c'era il discorso di diciamo andare incontro alle nuove esigenze che volevano sia per il turista che per il fruitore della spiaggia qualcosa che fosse di più rispetto alla cabina all'ombrellone e quant'altro quindi necessità di creare un retrospiaggia e necessità di dare un'identità ai luoghi e di creare soprattutto degli spazi pubblici che consentissero ai vari negozi ai vari bar ristoranti eccetera di potersi ampliare per migliorare la loro offerta e avere a disposizione degli spazi pubblici di relazione e sosta che all'inizio erano rappresentati solo dalla cavea che è stata appunto realizzata nel 1992 siccome avevamo un contesto praticamente anonimo e in alcune zone molto squallido abbiamo pensato di realizzare una ossatura con dei segni molto forti molto decisi forme molto decise che consentisse sulla quale si potesse articolare tutta la distribuzione dei vari spazi pubblici allora abbiamo le cabine che entrano gli stabilimenti balneari che entrano nel gioco entrano nel disegno dell'insieme abbiamo la creazione di spazi articolati e caratterizzati da varie peculiarità quindi abbiamo la piazza coperta con la tensostruttura la piazza più piccola con degli elementi di seduta lo slargo di largo seneca con la rotonda molto più ampia e su questi spazi si affacciano appunto anche le aree verdi articolate e muretti di delimitazione e quindi abbiamo creato spazi che consentono non solo la relazione e la sosta ma hanno consentito di realizzare tutta una serie di eventi che vanno dal concerto al mercatino al festival del brodetto e quant'altro architetto io dopo le chiederei di stringere un attimo perché diamo lo spazio agli altri e poi le volevo fare una domanda velocissima l'ultima cosa ridare al viale Cairoli la sua caratteristica di ingresso alla città e quindi alla zona mare e quindi abbiamo realizzato appunto una zona pedonale caratterizzata dalla presenza dell'elemento scultorio di Loreno Sguanci grazie mille quando passa dal Lido che sensazioni prova oggi sono molto contenta e orgogliosa perché comunque è un progetto che ancora oggi rifarei non al di là delle forme al di là però come impostazione come soluzione io credo che abbiamo dato risposta a tutte quelle che erano le esigenze del momento perfetto grazie mille davvero grazie mille dopo l'architetto Elena De Vita adesso diamo uno sguardo sì 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 grazie diamo uno sguardo al futuro con i vincitori del concorso di idee Waterfront Fano chiamo qui sul palco l'ingegner Stefano Luca Possati e l'architetto Marianna Mazzetta vincitori per la parte Fano Sud Torretto Ponte Sasso l'ingegner Possati è socio fondatore e direttore tecnico della 3TI Progetti Italia S.P.A. a cui lascio subito la parola per un loro intervento buonasera a tutti grazie dell'invito approfitto per fare una brevissima presentazione della società che rappresento che ho fondato nel 1997 che si chiama 3TI Progetti e abbiamo avuto nella nostra storia l'opportunità di lavorare un po' ovunque in tutta Italia ma anche in buona parte del mondo maturando esperienze importanti in tutti i settori dell'ingegneria questa cosa ci ha permesso anche di venire in contatto con le realtà professionalmente più importanti del mondo e quando ho cominciato a maturare l'idea di fare qualcosa per Fano per la mia città perché io sono cresciuto a Fano e fino alla laurea stavo a Fano e conosco alcuni di voi perché siamo stati compagni di scuola o compagni di avventura e quando ho cominciato a pensare di fare qualcosa per Fano e ho visto che la città di Fano aveva bandito questo concorso ho subito pensato a chi insieme a noi poteva dare un valore aggiunto perché professionalmente poteva lasciare un segno ad un progetto così importante e tra i vari contatti che avevamo avuto professionali c'era questa di ProApp che è uno studio di architettura del paesaggio tra i più famosi nel mondo loro sono portoghesi e io gli ho trasferito l'entusiasmo di questa avventura che cominciavamo insieme e proprio perché ritenevo che loro fossero diciamo quelle professionalità adatte a sviluppare un tema così importante e devo dire che i risultati ci hanno dato ragione fortunatamente da un lato dall'altro mi sento chiaramente doppiamente responsabile nell'affrontare di questo progetto uno perché è un'ulteriore sfida professionale che io affronto con entusiasmo perché è un bel progetto due perché da Fanese mi sento ancora di più coinvolto e responsabile faccio chiudo con le chiacchiere do la parola a Mariana Mazzetta che ha curato nel dettaglio insieme a Pro App lo sviluppo del progetto e che mi dà anche qualche parola in più su Pro App purtroppo Joao Nunes che è il titolare di Pro App oggi era impegnato in Portogallo però ci ha mandato un saluto facciamo parte del gruppo di lavoro che si dedicherà al progetto del Waterfront Torrette di Ponti Sasso un progetto di rigenerazione urbana basato sulla riqualificazione dello spazio pubblico sulla risoluzione speriamo definitiva e radicale di una condizione di marginalizzazione della parte della città in grande parte dovuta alla presenza della grande infrastruttura ferroviaria utilizzando gli argomenti della mobilità leggera con la costruzione di un grande percorso che alimenta una zona di spiaggia con un'enorme qualità ma con un'accessibilità fino adesso relativamente imaginale oltre questo argomento due grandi poli di attrazione riusciranno a fare venire le persone da questa parte della spiaggia attraversare la ferrovia in punti disegnati per servire questa accessibilità saranno collegate alla presenza di puntini che ci porteranno un po' dentro al mare e con attrezzature di carattere pubblico spazi espositivi anche grandi zone di parcheggio per permettere che tutta questa parte sia rigenerata con grande qualità e soprattutto basando tutta questa operazione sulla idea della enorme potenza dello spazio pubblico in qualche strumento di rigenerazione grazie ora vi racconto un po' più da vicino qual è stato appunto il nostro approccio quindi verso quest'area siamo partiti ovviamente da un'analisi degli spazi e ci siamo accorti che si trattava di un'area con grandi potenzialità degli spazi pubblici e ambientali perché appunto è ricca di spazi aperti che però possiamo definire residuali poiché nascosti tra le proprietà private c'è una forte valenza ambientale per la presenza della spiaggia e delle dune quindi in generale un'area dalle grandi potenzialità anche la presenza di un elemento storico come l'ex albergo torrette che se dovesse venire recuperato in un futuro potrebbe davvero rappresentare il fulcro storico di quest'area abbiamo quindi individuato delle criticità che sono una generale disconnessione della zona dovuta appunto alla barriera della ferrovia delle connessioni longitudinali quindi la ferrovia la strada statale che costituiscono una vera e propria barriera che pregiudicano l'utilizzo degli spazi c'è il problema della fruzione che è soltanto stagionale la presenza appunto degli spazi pubblici che sono dei spazi verdi che sono tutti puntuali e frammentati con gli accessi nascosti e quindi abbiamo individuato quali sono gli obiettivi di questo che ci hanno guidato diciamo in questo concorso quindi nelle idee che poi abbiamo sviluppato e che saranno poi gli obiettivi che ci guideranno anche nelle successive fasi di progettazione quindi in generale uno sviluppo di un'identità appunto a fronte del tessuto frammentato che c'è attualmente poi l'idea di aumentare lo spessore della linea di costa attraverso diciamo l'aumento della profondità degli spazi aperti proprio intendendo il waterfront non come una linea ma come un'area poi l'obiettivo di far vivere la zona durante tutto l'anno quindi facendo delle proposte di attività che possono rendere vivibili gli spazi durante tutto l'anno e il raggiungimento di questi obiettivi ovviamente contribuirebbe ad una promozione degli investimenti in questo tratto di costa in generale quindi un l'obiettivo di un miglioramento della qualità urbana che vuol dire anche qualità delle relazioni e quindi qualità della vita questi temi i temi che sono emersi da questa analisi hanno quindi generato un concept che ha riguardato tutta quest'area e che è una geometria unificatrice che appunto attraversa la zona e che quando incontra gli spazi aperti si apre andando a generare delle piazze delle zone a parcheggio quando invece incontra dei tratti più stretti diventa una passeggiata e quando addirittura si estende può diventare un'approssimazione al mare proprio per diciamo riconquistare anche un contatto visivo e fisico con l'acqua l'obiettivo diciamo un tema molto importante che ci siamo posti in generale è quello di liberare il più possibile l'area dalle automobili per fare questo abbiamo provato ad individuare delle aree a monte della ferrovia che sono queste indicate che potrebbero essere utilizzate soprattutto nei periodi di massima affluenza quindi nei mesi estivi come parcheggi appunto per liberare l'area propriamente del waterfront questa idea quindi ha generato il master plan della zona che a questo punto si presenta come un sistema di spazi pubblici connessi tra loro quindi una ricucitura di tutte quelle zone che erano frammentate abbiamo individuato quattro zone Ponte Sasso Sud Nord Torrette Sud e Torrette Nord e in ognuna di queste abbiamo provato ad individuare degli spazi che ci sono sembrati potenzialmente attrattivi per per degli interventi e che però ovviamente possono subire delle reinterpretazioni nelle successive fasi di progettazione ecco partendo da Ponte Sasso Sud abbiamo individuato eh quest'area questo grande vuoto urbano che abbiamo ehm diciamo reinterpretato come spazio per un nuovo parco attrezzato con una parte eh diciamo di buffer arboreo per mitigare la presenza della ferrovia e della strada e per andare poi con una uno spazio più aperto verso il mare qui si vede un po' meglio una sonometria quindi eh appunto prevedere anche una passeggiata che poi si estende lungo l'acqua proprio per riappropriarsi di quel rapporto tra città e mare che eh che manca attualmente in questa zona e può essere un grande parco attrezzato quindi soprattutto magari per i più giovani con uno skate park con dei giochi per bambini e sempre un po' con questo principio che poi vedremo anche un po' più avanti di eh creare un buffer arboreo proprio per mitigare eh lo spazio retrostante queste sono delle immagini di riferimento ma che possono aiutare a immaginare lo spazio come potrebbe eh essere interpretato quindi con delle passerelle ecco un esempio di pontile sull'acqua poi la zona di Ponte Sasso Nord eh qui abbiamo individuato degli spazi che ehm diciamo meno ampi di quelli che abbiamo individuato prima ma che contribuono rafforzano quell'idea che dicevamo di spazio pubblico come elemento unificatore ecco quindi che mette a sistema lo spazio eh lo spazio aperto che attualmente è molto frammentato ovviamente ogni spazio può essere poi può avere una fruizione molto flessibile quindi può essere adibito a installazioni aree ecco si vede qualche suggestione no? a un può essere una piazza attrezzata per eventi temporanei quindi eh diciamo una flessibilità nell'utilizzo di questi spazi la zona di Torrette Sud qui ehm abbiamo ipotizzato vabbè un sovrappasso pedonale che effettivamente potrebbe essere anche realizzato in altri punti e anche qui abbiamo eh individuato invece una zona abbastanza ampia dove eh diciamo riproporre un un parco urbano come era stato fatto nell'altra nella zona di Ponte Sasso Sud anche qui trattata con un diciamo una parte più densa eh per mitigare la presenza della ferrovia e invece una parte più aperta verso il mare e anche qui poi ovviamente ci sono ci può essere la presenza di installazioni artistiche spazio per concerti quindi un utilizzo molto eh vario ecco un cinema all'aperto la zona di Torrette Nord è quella che eh attualmente forse si presenta con una maggiore identità eh per la presenza forse dell'albergo dell'ex albergo Torrette e per una maggiore frequentazione e e anche per questo spazio centrale che dal quale siamo partiti che attualmente è un parcheggio ed è lo snodo del sottopasso ma che ecco probabilmente è un parcheggio e che abbiamo individuato come elemento come spazio che può diventare davvero il fulcro di questa zona quindi creare un grande liberarlo dalle macchine creare un grande spazio pubblico costituito da una piazza eh centrale una zona a parco verde attrezzato una passerella che si estende eh sull'acqua eh proprio a eh ridare identità e creare un luogo riconoscibile per questa zona il il sottopasso si potrebbe eh mantenere con quindi facendo proseguire anche la parte carrabile magari con una eh strada a sezione promiscua quindi con la stessa pavimentazione della zona circostante ovviamente eh limitandone l'utilizzo a eh per mezzi di emergenza carico e scarico e per i residenti qui alcune immagini appunto di come questi spazi potrebbero essere eh vissuti e e utilizzati grazie grazie mille e complimenti vi chiedo se c'è un elemento che è stato determinante per l'ispirazione del progetto del allora conoscendo anche il territorio perché io ho raccontato tanto a Joao eh della mia conoscenza del territorio fanese ritengo che l'elemento caratterizzante di questa zona sia proprio il rapporto diretto con il mare cioè Torrette Ponte Sasso sono la zona di elezione di elezione per chi vuole vivere pienamente il mare e il nostro progetto vuole esaltare questo rapporto vuole togliere barriere che eh si possono creare tra eh l'utente e il mare come per esempio il traffico la presenza delle automobili soprattutto nel periodo estivo in cui c'è anche traffico derivante dall'utente eh l'utente diciamo quotidiano quello che va al mare a Torrette perché gli piace Torrette e parcheggia dove capita quindi l'organizzazione di spazi esterni al waterfront per lasciare la macchina e liberare queste aree per viverle in maniera più naturale diretta con il mare sia aree retrostanti rispetto alle spiagge cercando di prendere e organizzare i luoghi che già ci sono ma che oggi non sono organizzati e cercando di estenderci anche con i pontili verso il mare cioè rendere questa fruibilità del rapporto con il mare più estesa più ampia in una zona che geometricamente è costretta perché come abbiamo visto abbiamo una fascia stretta che noi dobbiamo cercare di ampliare nella maniera più efficace possibile quindi togliere quello che ci divide dal mare mettere una natura organizzata del verde che ci permette di vivere il mare non solo da bagnanti ma anche da amanti di chi vuole il rapporto con il mare e che vuole vivere il mare anche in una stagione che non è quella propriamente dell'estate sul lettino ma che vuole vivere il mare tutto l'anno e questo sarebbe il grande obiettivo di avere una zona che è vissuta 365 giorni all'anno perché il mare è bello in tutte le stagioni però noi dobbiamo rendere quella zona una zona che dà qualcosa in tutte le stagioni che dà attrezzature a disposizione in tutte le stagioni che dà opportunità in tutte le stagioni questa è una grande sfida speriamo di essere all'altezza e di fare qualcosa di bello grazie grazie ancora congratulazioni un grande applauso l'ingegner Stefano Luca Possati e l'architetto Marianna Mazzetta adesso passiamo a Sassonia quindi la zona della città e chiamo qui sul palco l'architetto Andrea Govi e l'architetto Antonio Lamarca dello studio Super Spatial e anche loro ci faranno vedere con slide e un rendering che cosa hanno prospettato per la zona della Sassonia prego grazie a voi noi siamo uno studio di Milano Super Spatial abbiamo fondato tra l'altro giovanissimi 29 anni un applauso lo meritate solo per questo grazie abbiamo fondato infatti lo studio nel 2017 dopo un'esperienza con Rencolas a Rotterdam allo studio OMA e ci occupiamo di progetti a diverse scale infatti come potete vedere lavoriamo dalla scala davvero del progetto di interni come per esempio il progetto che abbiamo appena concluso a Firenze per uno showroom come in una chiesa di Firenze a progetti molto più grandi come in questo caso un progetto di paesaggio urbanistica o un progetto come quello per il concorso di Human Technopole che potete vedere a sinistra siamo uno studio multidisciplinare e ci piace proprio per questo investigare in modo nuovo ogni progetto facendo diciamo una sfida su ogni scala diversa per il progetto di Fano siamo partiti da tre ispirazioni principali la prima era l'idea naturalmente di ricollegare il mare alla città come vedete siamo partiti proprio dagli inizi dall'immagine che tutti conoscerete della Fano romana dove il mare toccava le mura quindi per noi andare a lavorare sul waterfront era un po' quello riportare la città verso il mare e riportare a sua volta il mare verso la città quasi a toccare le mura idealmente da un altro punto di vista ci siamo invece ispirati agli spazi urbani della città di Fano che forse più di molte altre città è ricchissima di bellissime piazze e spazi a misura duomo che sono naturalmente gli spazi ideali per favorire la vita pubblica la vita sociale della città mentre guardando oggi il waterfront che conosciamo ci sembra che questi spazi un pochino vengano a mancare perché sono più interessati magari dal traffico e c'è più spazio dato alle auto ci piaceva andare a ricercare una dimensione umana nello spazio urbano del waterfront e infine l'idea anche che il mare potesse venire in qualche modo a contatto con la natura che fosse proprio l'elemento verde l'elemento naturale quell'elemento che poteva far comunicare il centro storico e quindi lo spazio urbano con l'elemento più naturale del mare e quindi per esempio qui l'esempio di un parco a New York dove vediamo anche uno spazio molto stretto solo di qualche metro ha cambiato radicalmente una parte della città diventando uno spazio urbano molto utilizzato che potesse portare anche una componente naturale di biodiversità all'interno di un tessuto molto denso quindi brevemente il concept come abbiamo detto il waterfront può diventare un elemento che si espande sia verso il mare sia verso la città in questo modo gli stabilimenti balneari non sono più una barriera che si chiude verso il centro e si apre solo verso il mare ma possono diventare invece un elemento di dialogo che possono aprirsi anche verso un boulevard frequentato e un viale molto vissuto dalle persone a livello formale abbiamo pensato di riportare all'interno del progetto del waterfront tutte quelle tessiture quelle sorte di tappeti urbani le avevamo chiamati che caratterizzano la città di Fano per dare proprio a chi vive il waterfront l'idea della continuità con il centro come se non ci si trovasse in un'altra parte della città ma si facesse parte sempre di Fano e poi l'elemento naturale che può naturalmente entrare all'interno del progetto e diventare una parte fondamentale quindi il progetto il master plan nel suo insieme dove per caratterizzare ogni parte dare identità a ogni parte del progetto l'abbiamo caratterizzata in modo diverso tuttavia ci siamo con attenzione diciamo sull'idea progettuale abbiamo posto attenzione sul fatto che tutte le aree si intrecciassero tra loro in modo da non rendersi esattamente conto quando si passa da un'area all'altra in questo modo si ha l'idea di identità e si può riconoscere alcuni luoghi anche per ritrovarsi o per viverli si possono avere spazi con una forte identità ma allo stesso tempo si ha un'idea di continuità e dell'insieme senza diciamo scollegare parti rispetto ad altre e infine questa attenzione allo spazio pubblico e allo spazio urbano in generale ci permette di avere un waterfront che come diceva prima l'ingegnere anche d'inverno anche di notte in tutti i momenti dell'anno in ogni momento del giorno può offrire spazi alla cittadinanza che possa essere pienamente utilizzato quindi spazi che naturalmente saranno caratterizzati e diciamo con una forte caratterizzazione ma allo stesso tempo abbiano la flessibilità per cambiare per poter diciamo accogliere le esigenze dei cittadini nel futuro quindi un'immagine di insieme del modello di concorso e alcune delle parti che abbiamo deciso di dividere il progetto per spiegarlo più facilmente ora la parte dell'anfiteatro Rastat dove avevamo proposto di riconfigurare l'anfiteatro ampliandosi maggiormente verso il mare e permettere a chi ha seduto sui gradini una vista del mare e quindi anche di poter funzionare in modo ancora più flessibile seppur oggi è uno degli spazi più utilizzati dell'area l'area pedonale dietro l'anfiteatro che potrebbe diventare una nuova piazza aprirsi a tavolini e ad altre attività e qui per esempio un'immagine una suggestione di come il waterfront potrebbe trasformarsi la parte successiva dove abbiamo pensato di integrare le alberature esistenti in una sorta di nuovo giardino botanico che possa rendere l'esperienza del waterfront un'esperienza sì legata alla natura ma anche un po' una scoperta o un modo di gestire il verde magari in modo nuovo e anche se vogliamo un pochino museale che possa rendere l'esperienza interessante inserendo paesaggi diversi e come vediamo qui quindi la passeggiata che si affianca a questo giardino botanico e poi la parte invece esistente della piazza coperta dove manteniamo naturalmente il campetto da gioco che può essere riqualificato e l'inserimento come suggestione di nuove aree gioco nuovi spazi pubblici e una nuova spazza piazza coperta per gli eventi alcune immagini del progetto e infine la zona invece verso il porto era l'ultima suggestione dove l'elemento naturale diventa forse qui preponderante più importante dove naturalmente ponendo attenzione alla logistica e alla circolazione dei mezzi per il porto si è pensato però di inserire un elemento fortemente naturale un vero e proprio parco lineare che possa in questo modo mediare la relazione tra quella che è una vera e propria area produttiva della città viva ma comunque con naturalmente le caratteristiche di un'area produttiva che è industriale e invece il centro storico e la sua vocazione più turistica quindi in uno dei punti dove il mare forse è più importante e più presente per la presenza del porto ma da un altro punto di vista forse fisicamente scollegato perché la linea di costa si sposta molto grazie al porto abbiamo pensato di inserire qui un elemento più naturale quindi un'immagine anche di questa parte e infine per la caratterizzazione del progetto e per i materiali che abbiamo pensato di usare già in questa fase di concorso siamo andati a studiare quelle che erano le varie diciamo pavimentazioni le varie texture i materiali che sono già oggi presenti all'interno del centro di Fano in modo da trasformare questi materiali anche in materiali contemporanei a volte a volte quindi riproporli a volte invece semplicemente trasformarli in matrici che possano dare un'identità anche ai materiali nuovi che possono essere utilizzati e che in questo modo possano essere anche loro legati al contesto e infine un diagramma che spiega anche come la componente verde naturalmente porterà un grande giovamento al waterfront in generale alla percezione dell'area perché inserendo nuove alberature naturalmente si abbasserà la temperatura percepita sarà più piacevole passeggiare soprattutto in estate e in generale quest'elemento verde che verrà realizzato con specie del luogo che quindi anche richiederanno una minima manutenzione può diventare davvero un elemento che possa portare più biodiversità e possa aiutare il clima senza richiedere una grande manutenzione e poi abbiamo concluso invece con il video che abbiamo presentato per il conto per il conto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Punti di forza e di debolezza di Fano, visto che voi venite da una realtà come quella di Milano, però so che siete ben ancorati alla realtà di Fano, la conoscete bene, però magari avete un occhio diverso. Partiamo forse dal dire che per tutti noi il nostro gruppo di lavoro, l'elemento di forza di Fano e di tutta la costa marchigiana è sicuramente quello del paesaggio e del rapporto che c'è tra la collina e il mare. Poi quando abbiamo visitato Fano, prima di iniziare il concorso e soprattutto poi grazie a Andrea, a Conte di Andrea che conosce benissimo la vostra città, avendo trascorso qui praticamente tutte le sue estati, ciò che ci ha affascinato di più è appunto quando la collina, la campagna lascia posto quasi in maniera inaspettata al mare. Se però possiamo poi trovare qualche negatività è che è sempre poi più raro ritrovare questa tipologia di territorio. Questa ovviamente la causa la ritroviamo sicuramente negli insediamenti umani, in particolare poi come dicevano precedentemente sia il sindaco, l'assessore, l'ingegnere, sta nelle infrastrutture sia stradali che ferroviari che posti in maniera parallela rispetto al mare, tagliano in due la città di Fano, creando così due dualità che è quella del centro storico e quella del mare. Se torniamo poi all'immagine che Andrea ha mostrato all'inizio, quella di Fano Romana, andiamo quasi a dimenticare questa immagine delle mura di Fano che affacciano direttamente sul mare. Quindi prima scherzandoci chiedevamo come ci immaginiamo Fano tra 5-10 anni. Speriamo che con l'aiuto dell'amministrazione, degli operatori che parteciperanno a questo progetto, ma anche di tutti i cittadini, che ciò che abbiamo proposto, ciò che avete visto nel video, sarà realizzato nel più breve termine possibile, cercando quindi di ricucire quelle che sono poi queste due centralità, quindi il centro storico e il mare e il waterfront. Noi ve lo auguriamo, grazie ancora, complimenti, l'architetto Andrea Govi e l'architetto Antonio Lamarca. Vi chiedo la cortesia di restare un secondo qui come sul palco. Chiamo anche l'ingegner Possati e l'architetto Mazzetta qui sul palco con me perché vi hanno raccontato che il premio era in denaro. In realtà non è questo, ovviamente scherzo. Il vero premio ce l'abbiamo qui ed è la moretta, la moretta di Fano. Sicuramente voi la conoscete. C'è Aurora San Martana dello studio Zarre di comunicazione. Dopo la presentazione dei vincitori del concorso abbiamo la roadmap. che adesso vedrete anche nel video wall perché ci sono una serie di appuntamenti da qua al prossimo giugno, da qua, da gennaio. Da gennaio 2022 partirà una mostra a Fano presso la Mediateca Montanari, poi ce ne sarà una a Torrette Ponte Sasso. Febbraio 2022 un tavolo di ascolto con gli operatori economici, molto importante anche quel discorso che diceva il sindaco, quindi di confronto con la città. A marzo un consiglio dei bambini dedicato. Ad aprile 2022 un tavolo di medio termine per fare ancora un punto sulla progettualità. Un evento con gli ordini professionali. E a giugno 2022 la presentazione delle proposte. Un applauso se volete per questa roadmap impegnativa. E adesso entriamo nel vivo della tradizione della cultura fanese. Chiamo qui sul palco il poeta dialettale Elvio Grilli, lo ringrazio per la presenza, che ci regalerà una delle sue più note composizioni. Viene da me. E' la poesia che l'amministrazione comunale ha voluto poi rendere visibile nel sottopasso. che va verso il Lido, quindi è la città che si proietta verso il mare. Le poesie generalmente non si spiegano ed è protagonista il mare che pensa. Viene da me. Qualcun sostiene che so più bel di inverno. Diceva il mare, pensando dentro di lui. Viene raccontando a me le pendoli inferne, la vita di mago, chi ne può più. Qualcun viene giù soltanto per fare il passo. C'è chi mi guarda solo, senza fiatè. C'è quel che gioca, sai rimbar di sassi, ma tanti, e basta di respirare a me. E senti che non c'è bisogno di tante parole. C'è se capisce il volo, questione di pelle. Sarco le forze, prevegite la vita vera. La luce dell'aurora quando nasce il sole, o sal tramonti rocchi che infoca il cielo. D'venta elisir, salamagia della sera, quando l'onda canterina, min sapiang, a falani nananna mai gabiang. Grazie. Complimenti, grazie a Elvio Grilli. Grazie mille per questa splendida poesia. Ricordo che tutti i dettagli del percorso che abbiamo visto, dei progetti, sono a disposizione sul sito www.waterfrontfano.it. Ci avviciniamo alla conclusione. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessorato all'urbanistica, Zari Comunicazione, che cura la comunicazione del progetto, lo studio del Bianco, per il contributo di alcuni spezzoni di video storici su Fano, la voce narrante Raffaele Mazzei, il poeta Elvio Grilli, che abbiamo appena sentito, e naturalmente tutti voi che ci avete seguito con tanta passione. A tutti, cari auguri di buone feste. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.